buongiorno a tutti e ben ritrovati sul mio canale per una cosa molto insolita e particolare oggi andiamo a estrarre il vincitore della chi messa in palio su twitch i primi dieci sub e quindi sono quelli che avete perché vedete segnati nel nostro schermo parteciperemo a questo sorteggio e vediamo un po che si porta a casa la chiave di gioco di verdana vediamo un po come funziona questo sito qua perché non lo conosco neanche quindi via fuori giosema mi spiace amico lode star rider sergio ski ox stefan uoschi niente da fare asce neppure gratastinchi 90 no chi esce tra gli ultimi 3 99 quindi gersus danicaia vediamo un po che scrivi spi sprint di danicaia complimentoni che si è abbonato apposta per fare il sorteggio e se la sta giocando ma è ancora il leggero vantaggio gersus lo sta recuperando ma per ora all'ultimo è proprio combattutissima chi è che sta vince 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 danicaia complimentoni danicaia scrivimi e ti sei aggiudicato la nostra chi complimentoni occhio lungo bravo ricorda a tutti che comunque ora è già partito il sorteggio per già la nuova chi in estrazione ancora non è stata annunciata sono ancora in dubbio tra due quali mettere in palio quindi iscrivetevi va benissimo anche un abbonamento prime quindi non dovete per forza spendere dei soldi supportate il canale e avete la possibilità di vincere come il simpaticone da nicaia grazie e alla prossima